Allora vado, vado, vado e voi venite, venite a fare la tombola, queste sono le cartelle e voi dovete venire a fare la tombola il 22, domenica, prima di Natale, è proprio un classico, la tombola di Natale al Palladium, al Cinema Teatro Palladium, alla Garbatella a Roma, vi aspettiamo, ma soprattutto poi lo potrete vedere anche su repubblica.it, quindi qualcosa potete anche vedere. Ma la cosa fondamentale è perché, perché giochiamo alla tombola, ma perché giochiamo alla tombola dell'ambiente, giochiamo alla tombola dell'ambiente, i numeri corrispondono tutti a un tema sull'ambiente, sulla salvaguardia dell'ambiente, del pianeta, del tutto. E quindi voi dovete assolutamente, quelli che sono a Roma, che possono venire, venire a giocare alle 17, il 22, 22 di dicembre naturalmente, e poi invece gli altri, beh, organizzare delle tombole dell'ambiente e noi veniamo. E quindi dai, dai, salviamo sto ambiente per Natale.